Signora, signora, Franceschina ha versato sul tappeto tutto il succo di frutta. Davvero? Franceschina? Cosa hai combinato? Cattiva! Ma mamma, mi è accaduto per sbaglio. Non è vero, l'ho fatta tosta. Sei proprio un'infamona, Ramona. Da oggi, nei migliori negozi di giocattoli, puoi trovare Ramona, la bambola infamona. Ramona fa la spia, i dispetti e può perfino rompere i tuoi giocattoli. Franceschina, mi fai vedere il ferro del stilo giocattolo che ti ha regalato la mamma? Certo, Ramona. E adesso dirò a tua mamma che l'hai rotto tu. Ramona, la bambola infamona, nei migliori negozi di giocattoli.